ci sono alcune parziali risposte in un clima che però non è quello che ci dovrebbe essere quando si parla di morti sul lavoro il governo dice che ci serve unità e convoca su un tavolo diverso dall'altro prima le organizzazioni sindacali poi le associazioni datoriali governo dice che servono investimenti e non siamo riusciti a capire perché probabilmente lo decideranno oggi in consiglio dei ministri quant'è la copertura economica che servirà a fare le nuove assunzioni perché di questo si parla e non ci siamo perché sui temi della sicurezza bisognerebbe avere la capacità e la possibilità di approfondire di discutere il testo di un eventuale decreto c'è stato consegnato stamattina tra l'altro nemmeno in modo organico in modo disarticolato e guardando che i testi emerge intanto un subito che è vero che c'è una risposta ad una nostra richiesta di patente appunti che si chiama patente accrediti quindi c'è un'impostazione diversa ma la vita di un lavoratore vale 20 crediti si può lavorare con 15 e 5 si recuperano con un corso di formazione come vedete c'è una valutazione che a noi sembra lontana dal rispetto delle vite umane e della dalla necessità di intervenire con investimenti e risorse su un tema che equivale ad una strage grazie Grazie a tutti.